Disaggi, criticità e rabbia. Cresce il malumore dei cittadini di Torre del Greco a pochi giorni dall'entrata in vigore del nuovo piano circum approvato dal consorzio EAB e che vede penalizzata la fermata delle corse dirette non solo verso la penisola sorrentina ma anche a Castellammare di Stabia e Pompei sull'intero territorio cittadino. Un provvedimento, quello a firma del presidente Umberto De Gregorio che evidentemente mortifica la quarta città della campagna costringendo l'utenza ad un obbligato interscambio a Torre Annunziata. Abbiamo così ascoltato ai nostri microfoni la voce diretta dei nostri cittadini raccogliendone le opinioni e le difficoltà. Un caos enorme, un caos enorme. La Vesuviana è praticamente lo strumento principale di movimento per tantissimi cittadini. Sembra che per avvantaggiare il flusso turistico delle persone abbiano soppresso le treni o addirittura creato una linea diretta da Napoli a Sorrento. Oggettivamente non c'è nessun vantaggio perché invece di pensare ai turisti dovrebbero pensare anche ai fruituri normali e dovrebbero ampliare le fermate e addirittura il numero di corse. Quindi è una follia pura questa. Secondo lei chi dovrebbe intervenire? Chi amministra sicuramente dovrebbe intervenire. Non è bello perché ci hanno costretto che noi a Sorrento non ci possiamo andare perché chi non ha la macchina come ci va a Sorrento? È tutto sbagliato, non parliamo poi di Poggio Marino. Noi siamo costretti d'estate a rimanere a Poggio Marino. Chi non ha la macchina, io sono uno di quelli che purtroppo non ha la macchina. Ci può stare che vengano, come dire, tagliate delle stazioni però credo che almeno Ercolano e Torre del Greco andavano preservate da questo punto di vista. Trovo ancora assurdo che ci sia un treno turistico con un biglietto che costa un prezzo spropositato e invece di incentivare questo tipo di trasporto si punti a far arrivare il treno direttamente a Torre Annunziata solo per aumentare il costo dei biglietti. Chi è che ha avuto questa brillante idea? Lo abbiamo sperimentato in questi giorni che volevamo andare al mare e siamo stati costretti all'andata e ritorno a fermare Torre Annunziata. Secondo lei un provvedimento coerente ha un criterio? No, assolutamente no. Ho visto dei turisti spaesati che non sapevano neanche loro dove andare, cosa fare, come brigare insomma. Io penso che tutta la società che gestisce la circondazione stanno andando a rotoli. I treni che io vedo adesso, io sono andato qua a Via di Francesco Bazzami, cioè sono da quando avevo, ero piccolo, sono sempre gli stessi. Lei avverte il disagio? Certo che l'ho avverto, infatti tardiamo sempre al lavoro e questo non va bene perché siamo in una situazione veramente irritabile. Sorrento non passa, disagio, non disagio, di più, perché poi ci sono persone che non sono state avvertite e qui discendono, salgono, ma non sanno dove devono andare perché non c'è stata un'informazione corretta. Abbiamo votato Mennella, speriamo che lui possa fare qualcosa, a differenza degli altri sindaci che so che hanno fatto qualcosa.